Paolo Calabrò. Tutte le storie sono vere. Editore Il Prato. Ogni festa ha la sua luce. È anzi proprio dalla luce che si può dedurre di che tipo di festa si tratti. Dalla posizione di faretti, neon, piantane, abajur, da come tutto ciò venga acceso o spento a seconda del momento, dai colori, dall'intermittenza, dall'intensità. Si capisce subito, appena entrati, quello che il padrone di casa ha in mente per la serata. L'illuminazione bassa è di quei parti dove c'è gente che conta e non ha bisogno di mettersi sotto i riflettori per brillare, anzi li evita. È la festa chic, in cui è d'obbligo il jazz anche se tutti lo odiano, e dove stai continuamente a chiederti se qualunque cosa, un'altra tartina, un secondo bicchiere di champagne, una risata più robusta e sincera, non sia per caso fuori luogo. Forte e invadente è invece la luce di una festa dove ciò che conta è l'apparire. Un'occasione per mettersi in mostra come a una fiera campionaria, molta allegria artefatta, movimento di gente che gira distanza in stanza senza sapere che cosa cercare, e gridolini a ogni stappo. Donne fintamente su di giri e uomini con l'imperativo di sembrare affascinanti. È proprio una di quelle feste in cui sembra giorno anche di notte. Lui, appoggiato a un mobile con le gambe accavallate e un braccio piegato sotto l'altro, sorseggia un long drink dal sapore indecifrabile. Ha passato la mezz'ora precedente a stringere le mani e a ricevere i complimenti di tutti gli invitati. Adesso postarsene in disparte a osservare il vortice di quelli che affollano la stanza in maniera tecnica, come se dovesse giudicare la correttezza dei movimenti di ciascuno. Deformazione professionale Lui è il regista e lo sceneggiatore e l'ideatore dell'ultima serie di successo della rete nazionale, La Forza del Cuore, che in poche settimane ha fatto fuori la concorrenza e strappato un successo di pubblico superiore alle aspettative, perfino dopo quello ottenuto con gli impeti dell'anima l'anno prima. Quella festa è per lui, Mike Silvestro. Sarebbe Michele, ma in certi ambienti uno pseudonimo ed obbligo, magari non originale, purché sia all'americana. Un uomo si avvicina. Allora, i sogni si avverano, eh? È Franco Zorzi, giornalista che ha meritato la sua fama di intellettuale imparziale e non in vendita, una recensione dopo l'altra. Basso anziché no, occhiali, capelli corti, anonimi e ordinati, e un vestito costoso quanto insignificante di chi ne farebbe a meno se potesse. Mike glielo riconosce. Zorzi l'ha sempre stroncato, ma con un'eleganza e un'onestà che non gliel'hanno mai lasciato odiare, anzi, spesso, leggendolo, non poteva fare a meno di dargli ragione. Da quando Mike era arrivato alla regia, erano finite le produzioni forti, quelle con un afflato, una morale, un intento e un messaggio, e non ne era rimasta che l'impalcatura, il ritmo, il colpo di scena, il cosiddetto cliffhanger che tiene agganciato lo spettatore da una puntata all'altra. Mike Silvestro aveva fatto piazza pulita tanto del conservatorismo quanto del progressismo, della dannazione e della redenzione, della vendetta e del perdono. Quelle che raccontava, una serie dopo l'altra, sempre uguali, ma in modo tale che gli spettatori non se ne accorgessero, o meglio ancora, che finissero per apprezzarlo, erano storie di gente qualunque che ha un sogno e che, alla fine, riesce sempre a realizzarlo. Il sottotitolo di La forza del cuore era infatti Chi crede all'incredibile può ottenere l'impossibile e non aveva difficoltà a riconoscere che quelle produzioni di impossibile ne avessero un bel po'. Per ora mi basta pensare alla forza del cuore. I sogni si avverano al momento e solo un progetto. «Oh, ma io alludevo al successo di questa stagione», dice Zorzi. «Un altro grande riscontro. Il pubblico la adora. Quando è che potrà farlo anche la critica?» «Io lavoro per il pubblico, mica per la critica», risponde lui con un sorrisino in ossequio alla prima regola non scritta dello spettacolo. «Mai litigare con i giornalisti». «Un modo come un altro per accontentarsi. Potrebbe avere una donna migliore, più bella, o che in ogni caso le piace di più e invece si tiene quella che ha solo perché è disponibile nei suoi confronti». «Accontentarmi?» risponde. «Sembra una cosa un po' temeraria da dire. Mi fanno fare quello che voglio. Mi scrivo da solo soggetti e sceneggiature, senza ingerenze. ho il contratto già rinnovato per l'anno prossimo e...» «Stava per dire guadagno dieci volte più di te e in autunno, quando entrerò a far parte della produzione, guadagnerò il triplo». Si trattiene giusto in tempo, infila la mano libera in tasca e prende a toccare il piccolo milleusi che porta sempre con sé, gesto di cui è consapevole ma che non riesce a impedirsi. «Si porta ancora dietro quel coltello», dice il critico che conosce sia l'oggetto sia la mania. «È un coltellino», risponde. «Lo so, lo ha spiegato in più di un'intervista. Le ho già detto che è vietato?» «Sì, più di una volta», gli fa eco Mike. «Ma continua a portarlo appresso?» «Sono tante le cose vietate che facciamo lo stesso, dico bene?» Zorzi era stato fermato dalla polizia un paio di mesi prima. Gli avevano trovato più di dieci grammi di coca addosso. La soffiata di qualcuno che non l'aveva mandata giù, certamente. «Immagino di sì», fa quello abbassando gli occhi. «Comunque», riprende Mike, «pare che vada tutto per il meglio, no?» «Se non le secca girare ogni anno una nuova serie uguale a quella dell'anno precedente, ma se una cosa funziona, perché cambiarla?» dice lui con un'autoironia che spera che l'altro riesca a accogliere. «Insomma, si guardi intorno, di cosa dovrei lamentarmi?» «Dell'inautenticità». Mike detesta i paroloni dei giornalisti pieni di filosofia e senza sostanza. «Non sente com'è tutto falso. Anche la sua ricetta di prendere attori non professionisti non ha niente di originale. Lo facevano i neorealisti settanta anni fa. Lei, però, non si definisce un neorealista. E mi perdoni la franchezza, non ottiene neanche gli stessi risultati». «Questo dipende dal punto di vista», replica lui. «Se deve uccidere qualcuno nel sonno, avrà bisogno di un'arma silenziosa. Che so, un laccetto da strangolatore. Per assaltare una fortezza le serviranno bombe e carri armati. La rete vuole prodotti di successo e io glieli do. E la mia idea di prendere gente dalla strada funziona. Mi serve un salumiere? Prendo un salumiere. Nessuno conosce quella parte meglio di lui. Allo stesso modo mi serve un medico? Prendo un medico. Gente che recita come vive il vero che più vero non si può. E in più lo fa gratis perché io gli do l'occasione che tutti vogliono. Quella di apparire in televisione. Così facendo ho abbassato i costi degli attori dell'85% e anche la metà di quelli del casting. Molti li recluto personalmente. Io lavoro per la rete. Loro mi affidano una missione. Io la porto a termine. Tutto qui». «Molto Machiavelli» risponde Zorzi «e poco Truffò». «Perdoni anche la mia di franchezza» risponde lui. Poi dice che i critici sono antipatici a tutti. «Parlate sempre di cose che non c'entrano. Qui non facciamo cinema ma televisione. Può sembrare lo stesso ma è tutt'altro. C'è sempre un regista degli attori una macchina da presa eccetera eccetera ma il lavoro che facciamo è completamente diverso. Se non si capisce questo» «Lo so lo so» fa l'altro sollevando appena il bicchiere. «Anzi parlo anche di questo nell'ultimo libro che ho scritto. Ne ho lasciato una copia per lei al guardarobba». «Grazie». Il critico abbassa appena la testa poi la rialza con un movimento che ha una delicatezza d'altri tempi. «Su una cosa veramente ragione. Noi critici siamo antipatici a tutti ma non è colpa nostra è del mestiere che facciamo». Mike gli accenna un sorriso che vorrebbe essere complice. «Vale anche per me» vorrebbe rispondere ma si rende conto che l'altro lo sa già. Leggerò il suo libro con molto interesse. «Le farò sapere cosa ne penso». «Spero di no» dice l'altro sollevando di nuovo il bicchiere poi va via. Dopo un altro paio di sorsi lenti e meditati appoggia il bicchiere sul mobile e si dirige al guardarobba. Zorzi l'ha incuriosito. «Ci deve essere un libro per me» dice alla ragazza in camicetta bianca e gonna nera dall'altra parte del bancone. «Cognome?» fa quella. Lui sorride. «C'è ancora qualcuno che non guarda la televisione» pensa. Poi dice «Silvestro!» Al sentirlo lei arrossisce di colpo prende il libro da un cassetto e glielo porge. «Ecco!» gli dice «Mi scusi!» «E di che?» potrebbe dirle ma sarebbe peggio. «Grazie!» dice. lo prende e si allontana. Attraversa le stanze e vede sorrisi forzati gente impegnata a divertirsi con lo sforzo di chi stia facendo del lavoro straordinario al di fuori dell'ufficio. E gli tornano in mente certi veglioni a cui da giovani si era costretti a partecipare e a tirar tardi anche contro voglia che il primo che avesse detto sonno sarebbe stato lo zimbello di tutti per il resto dell'anno. Per un po' cerca un angolo riservato in vano allora si decide a tornare al posto di prima c'è ancora il suo bicchiere apre il libro sfoglia le pagine a partire dalla fine cerca l'indice dei nomi non c'è allora va all'inizio prende l'indice generale il capitolo 6 si intitola l'involuzione della SOP Rizzo Manni Silvestro accomunato a due registi di mezza tacca pensa corre al capitolo e comincia a leggere le prime due pagine parlano male della televisione in generale altre due bastano a Zorzi per demolire Rizzo la cui miscela di roba abusata e di vuoto pneumatico di contenuti viene definita deliziosamente inconsistente poi comincia a parlare di lui dall'impeto dell'anima alla forza del cuore cambia il titolo ma non la sostanza solito plot solita solfa attori di nessuna competenza vengono messi sullo schermo a interpretare in pratica se stessi le loro angosce mediocri i loro moti artificiali di chi non solo non sa recitare ma forse neanche vivere la cui unica morale è sempre invariabilmente quella del successo a ogni costo a dispetto delle avversità e perfino della verosimiglianza i protagonisti di Mike Silvestro vincono sempre e i loro sogni si realizzano puntualmente all'ultimo minuto non come premio per un merito fosse anche soltanto la perseveranza e l'ostinazione ma come una specie di ricompensa che attende l'uomo qualunque indipendentemente da ogni cosa il finale di ognuna di queste serie è dunque annunciato non c'è colpo di scena che tenga il pubblico non la segue per vedere come andrà a finire come un tempo ma solo per raggiungere il momento in cui potrà godere della vittoria del protagonista come se fosse la propria come in una specie di copula annoiata che non attende altro che il riscatto dell'orgasmo né c'è da aspettarsi che le cose possano cambiare con i sogni si avverano annunciato per l'anno prossimo come in una nuova frontiera del reality che Silvestro difende sostenendo che le storie sono vere quando vengono messe in scena da persone vere e che finora ha dato ragione a lui e ai suoi produttori se non si bada che agli incassi non resta che sperare che un giorno il regista voglia passare da tutte queste storie vere a delle storie finalmente belle ci troverà tutti pronti ad applaudire per adesso non ci resta che andare al cinema un senso di stanchezza lo assale chiude gli occhi cerca di isolarsi da quella tremenda musica ad alto volume alla quale a momenti non faceva neanche più caso pensa a Filippo suo figlio che lo aspetta a casa ha 13 anni e da qualche mese pretende di fare a meno della babysitter quando lui si allontana la sera per lavoro gli manca pensa che fra la scuola le riprese e le feste di rappresentanza come quella si vedano troppo o poco pensa al Vermont il suo posto del cuore con quelle foglie cariche di colore che sembrano frutti maturi a perdita d'occhio per terra sugli alberi e a quelle enormi case in legno tutte bianche che gli fanno pensare alla pace se potesse prenderebbe il suo ragazzo e se ne andrebbe lì su due piedi e chi se ne frega dell'inglese del lavoro e della rete i soldi non sarebbero un problema almeno per i primi tempi emette un sospiro lungo quanto l'intera strofa della canzone che c'è in sottofondo sa benissimo che non ci andrebbe mai nemmeno se per assurdo la produzione glielo permettesse qui in mezzo a questa gente che detesta meschina rivista e spudoratamente lecca piedi è il regista di punta l'uomo che può schioccare le dita e trasformare il fruttivendolo all'angolo nella celebrità del momento è il successo per cui ha lavorato sodo tutta la vita se l'è guadagnato e ora non saprebbe farne a meno pensa a se stesso crede di sapere chi è e dove sta andando cosa ne sarebbe di lui dall'altra parte dell'oceano fino a quando gli strappano il libro dalle mani e lui riapre gli occhi è Sandro Rambaldi il suo aiuto regista fidato da anni sono inseparabili lavorano a braccetto anche 16 ore al giorno e lui gli fa la solita battuta tutte le volte che ne ha l'occasione ehi Mike mi sa che passi più tempo con me che con tua moglie sarebbe di cattivo gusto per chiunque dato che ha divorziato due anni prima ma non per Sandro il suo migliore amico di sempre che stai leggendo Zorzi l'involuzione della specie decadenza della regia dal grande schermo alla finestrella di casa non si capisce manco il titolo che dice quello che dice sempre che facciamo tutti schifo che palle dice Sandro poi aggiunge lo so io cosa ci vuole qui prende il libro lo apre alle pagine della critica al suo amico lo piazza nel vaso di un ficus ad angolo della stanza e poi fa quello che ci si aspetterebbe senza meno da uno come lui ma che mai si immaginerebbe di poter vedere davvero abbassa la cerniera dei pantaloni e comincia ad annaffiare a un tempo la pianta e il volume in un attimo sono tutti a guardarlo c'è chi ride ancora più forte di prima chi applaude chi si avvicina nessuno scatta foto sono proibite a questo tipo di incontri e la stanza si affolla istantaneamente di tutti quelli che stavano altrove e sono accorsi in un lampo alla fine Sandro si risistema poi gli dice adesso scusami vado a cercare Zorzi gli dico di venire a riprenderselo intanto si avvicinano in molti lo riempiono di pacche sulle spalle stando tutti ben attenti a non dargli la mano e i vari ehi o numero uno o ancora sei grande si sprecano per i successivi quindici minuti anche Mike gli sorride senza dirgli niente si sa che per Sandro l'eccesso è la normalità me ne vado a casa gli fa che dici la festa è appena cominciata non è neanche mezzanotte c'è Filippo da solo non mi va di fare tardi da solo non c'è la babysitter con lui e dice che è grande che non ne ha più bisogno sono un paio di settimane che ne facciamo a meno e non ho mai fatto notte fonda non voglio cominciare stasera ok risponde l'altro tranquillo qui ci penso io come vedi ho tutto sotto controllo lo vedo lo vedo dice Mike vinti minuti dopo esce dall'ascensore e sovra pensiero fa per infilare la chiave nella serratura del suo appartamento ma mentre è ancora lì che la cerca in tasca nota che la porta è socchiusa l'allarme del pericolo si accende con uno scatto dentro di lui insieme a una vocina che gli ripete stai calmo che ne avrai bisogno Filippo dice entrando avanza nella penombra del corridoio delle luci calde e soffuse che vengono dal salone in fondo Filippo ripete se non risponde gli dice la stessa vocina di prima può significare solo una cosa sta dormendo si sta dormendo pensa mentre continua ad avanzare quel corridoio non gli era mai sembrato così lungo Filippo dice ancora a voce più alta che si strozza sulla metà Filippo grida spalancando la porta della camera del figlio non è lì a una a una apre tutte le porte della casa con un gesto secco e fuori misura come se volesse scardinarle si lascia cadere sul divano del salone gli occhi sgranati come se nel buio volesse carpire una traccia un segnale una speranza se non risponde può significare soltanto una cosa Filippo non c'è